Come ogni anno la Recording Industry American Association, come anche la controparte, la nostra FIMI, quindi la Federazione dell'Industria Musicale Italiana, come ogni anno tirano fuori il bilancio dell'andamento dell'Industria Musicale, in questo caso nel primo semestre 2021. Faccio questo video poiché ho la speranza che questo video arrivi, in questo caso anche al CEO, Enzo Mazza, di FIMI per aprire un dibattito serio rispetto alla sostenibilità degli artisti, rispetto all'industria discografica e spero quindi che vi vada di condividere questo video e parlare un attimino seriamente di questa tematica facendo un attimino un'analisi non tanto dei dati ma, secondo me, del pensiero che ci deve essere e la consapevolezza che artisti, musicisti e chi lavora nell'industria musicale dall'alto al basso dovrebbe avere di quello che succede concretamente. Perché? Perché spesso vedo leggere dei dati in una maniera che personalmente va a omettere tutto a una parte molto più complessa e di cui sicuramente neanche su questo video e soprattutto in 10, 15, 20 minuti non so quanto durerà, difficilmente si riuscirà a parlare. Ma mi sembra giusto informare le persone là fuori, visto che qui su Music Business Italia noi ci teniamo davvero alla sostenibilità dei progetti musicali e al lavoro di musicisti e artisti. Allora, innanzitutto parto con il fare un attimino il punto della situazione rispetto a questo report vi lascerò tutti i link, vi lascerò tutto quanto, così poi se volete potete andarlo a vedere anche voi Allora, innanzitutto la Recording Industry American Association ha tirato fuori questo bilancio che fondamentalmente è estremamente positivo perché, detto in parole povere, io qua mi sono segnato alcuni dati per non stare a sbobinare tutto, ma li potete appunto andare a vedere, sono tutti consultabili Il mercato americano, ok, poi passeremo a quello europeo, ha visto una crescita fondamentalmente rispetto all'anno precedente del 27%, ok, su vari fronti e quello che a me, che poi dovrebbe essere un argomento secondo me di questa tesi argomento anche che non ho visto trattare dal CEO di Fimi, Enzo Mazza, è il peso che lo streaming ha su questa crescita quindi il digitale. Ora, tutti sappiamo che nel periodo pandemico ha accelerato ovviamente un processo di digitalizzazione anche da parte dell'industria, ok, musicale, perché per forza, cioè, o si faceva così o semplicemente le aziende non avrebbero retto questo colpo, no? Ora, che cosa succede però? Che se andiamo a vedere, e questo lo trovate anche su Music Business Worldwide un dato secondo me interessante, che non viene, secondo me, aperto e che voglio aprire oggi è che di questo incremento in Italia, scusate, in Europa, si parla circa del 34% di crescita rispetto al semestre precedente circa l'80%, 84% è dovuto a una continua crescita di quello che è il mondo dello streaming e degli abbonamenti, ok? generando quindi un fortissimo impatto sui fatturati della music industry e, voglio dire, e di quelle che sono queste statistiche ve la metto in numeri molto più beceri cioè, cosa significa? Che se il mercato è cresciuto del 30%, ok, quindi è cresciuto di 30 punti di questi 30 punti, l'80%, quindi 24 punti, dipendono dalla crescita del mercato streaming, ok? e da tutto l'indotto del mercato streaming altra piccola parentesi che ci tengo a dire che viene riportata anche sempre su questo articolo dell'Huffington Post ecco, ovviamente ci sono tutta una serie di servizi che sono cresciuti nel tempo che riguardano il riconoscimento royalty, il riconoscimento dei diritti anche su piattaforme che fino a un po' di tempo fa non venivano considerate, ok? quindi mi riferisco per esempio all'utilizzo di musica sui social, quindi su Twitch, su TikTok in particolare perché sono i due social che hanno spopolato di più, eccetera, eccetera non voglio entrare nei dettagli, no? Perché sono, ripeto, discorsi complessi ora, fermo restando che segnalo un problema che c'è sul sito della Fimi così se mai qualcuno di Fimi dovesse vedere potrebbe risolverlo cioè che quando si va a cliccare per avere lo state del Global Music Report page not found, per cui finiamo come sempre in una situazione molto all'italiana però, ora, detto questo andiamo un pochino dritti al punto ragazzi, artisti, musicisti dateci anche il vostro pensiero in merito vi chiedo veramente, non ve lo chiedo mai ma sono informazioni, secondo me, di cui bisognerebbe parlare di più per cui sarebbe gradita una condivisione di questo video, no? ora, sapendo che il mercato è cresciuto e sapendo che gran parte di questa crescita è dovuta appunto all'aumento degli abbonamenti all'aumento dei servizi streaming la domanda sarebbe, ok, ma come poi i servizi streaming gestiscono le rendicontazioni e tutto quello che è questo discorso, no? allora, ovviamente nell'articolo io prenderò questo articolo di Huffington Post scritto appunto, ripeto, da Enzo Mazza e ne prenderò alcuni punti, no? allora, tra le varie cose si dice la crescita dei servizi premium era già stata una costante del 2020 dove si è assistito a un forte incremento degli abbonati alle piattaforme per cui era già una cosa che stava crescendo ovviamente la digitalizzazione insomma, è un dato che sappiamo, no? quindi l'industria musicale si è fortemente digitalizzata eccetera eccetera poi qua, se vi ricordate, giustamente il signor Mazza scrive nei primi anni 2000 l'industria discografica si trovava in una fase molto complicata legata alla pirateria digitale la diffusione e la transizione verso le nuove tecnologie che portano il mercato a prendere quasi il 40% del fatturato, no? nel nostro paese se vi ricordate io vi parlavo dell'ingresso di Napster o meglio del caso Napster che aprì una voragine che l'industria musicale l'industria discografica cercò di combattere ma arriveremo al ma successivamente ok? continua nonostante questo periodo di crisi le aziende hanno continuato a investire sui nuovi talenti con effetti che si sono resi visibili anche dopo dopo anni con un totale ricambio generazionale ok? questo va un po' in contraposizione con quello che invece per esempio Music Business Worldwide dice dove fondamentalmente il oltre al 66% degli ascolti sulle stesse piattaforme arrivano dagli hold catalog e adesso quindi dai cataloghi degli artisti ok? che diciamo chiamiamoli datati ok? quindi non le nuove release questo l'avevo già detto tempo fa vedete quanto siamo avanti su Music Business Italia pazzesco ma adesso capirete perché faccio questi parallelismi no? ora si va avanti dicendo molte barriere all'ingresso presenti nel mercato discografico di 10 anni fa sono scomparse offrendo grandi opportunità e potenzialità di sviluppo a tanti artisti la concentrazione presente nel 2011 con oltre l'11% del mercato generato dalle vendite della top 10 o il 32% della top 100 a costituire la maggior parte delle vendite si sostanzialmente ridotta penso si è sostanzialmente ridotta nel 2020 la top 10 rappresentava il 7% del totale e la top 100 poco più del 27% secondo i dati GFK GFK allora che cosa vuole dire con questo? che la liberalizzazione l'apertura di questi nuovi servizi a cui artisti indipendenti potessero hanno potuto accedere mi viene in mente TuneCore CD Baby Distro Kid ok tutti questi aggregatori musicali che fanno o hanno un ruolo diverso da quello che è il mondo della distribuzione vera ok di quelle che sono le piattaforme di distribuzione vera e aziende come Believe Digital e tante altre ma questo sarebbe un altro argomento ma anche qua non apriamo non apriamo il discorso comunque cosa succede? che fondamentalmente avendo aperto questa parte ok di possibilità il numero fondamentalmente di quelle che erano i numeri delle top chart si sono ovviamente abbassati lasciando spazio agli artisti indipendenti se ve la devo dire in modo becero questo ha significato che il digitale in particolare lo streaming ha introdotto una forte democratizzazione dei ricavi questa è la parte su cui io signor Mazza se vedrai questo video non sono assolutamente d'accordo e adesso cercherò anche di stare un po' calmo perché quando leggo queste cose mi dispiace per tantissimi artisti perché secondo me si fa leva su una non conoscenza una disconoscenza di come funziona il settore e quindi giustamente uno dice wow che bello sta andando tutto bene allora quindi stavamo dicendo che ha introdotto questa forte democratizzazione dei ricavi lo streaming la democratizzazione dei ricavi compie artisti in grado di ricavare dei denari dalla propria attività recreativa rispetto al passato i dati mostrano infatti un importante risultato sul fronte del numero di artisti che hanno raggiunto il successo nel 2020 sono stati 246 gli artisti italiani che hanno superato i 10 milioni di stream contro i 97 del 2010 che avevano superato l'equivalente soglia delle 10.000 copie vendute tra fisico e download ora lasciando perdere che io ho avuto modo anche di sperimentare sulla mia pelle cosa è stato il download tra soprattutto 2011 2012 e 2013 prima della sua diciamo del suo picco verso il basso ovviamente dovuto a tutta una serie di cose io però ora voglio un attimino fare un discorso serio chiudo il computer e faccio i conti ok adesso qua non mi sono segnato scusate allora 246 allora quindi qua ci stiamo dicendo che 246 artisti italiani hanno potuto beneficiare di questi servizi superando le i 10 milioni di stream ok complimenti a chi è riuscito in questa grandissima impresa ora facciamo due numeri allora spotify prima di andare poi nel dietro le quinte ok perché io non sono minimamente d'accordo con quanto riportato qui sopra innanzitutto perché non si fa un calcolo matematico cioè ponendo in essere che io personalmente riesca a fare 10 milioni di stream che ognuno di voi artisti musicisti con la vostra musica e proprio perché cercate visibilità su queste piattaforme che vi danno grandi opportunità di crescita riusciate a fare questi famosi 10 milioni di stream allora 10 milioni per quello che è il pagamento il paper stream che è ad oggi è tra lo 0,0084 e lo 0,003 centesimi ma cerchiamo di andare in eccesso quindi facciamo i conti per 0,003 anche per facilità di calcolo significa che se voi superate i 10 milioni di stream avete generato 30 mila euro ok 30 mila euro di royalty e io so già come un artista potrebbe dire 30 mila euro mamma mia allora io già qua metto di fronte 10 milioni 30 mila euro ok però andiamo avanti facciamo facciamo questo calcolo allora uno in Italia dovrebbe valutare che ovviamente su quei 30 mila euro ci sarà quello che il cosiddetto in music indies si chiamano cut from the top cioè per cui quella cifra la devi fondamentalmente suddividere ok con gli aventi diritto ok con società terze se ci sono società terze di mezzo e con quello ovviamente che poi ricavi ci dovrai pagare le tasse oppure facciamo come all'italiana tutto a uma uma a cdc quindi a di cane ok quindi io ho fatto un conto no mettiamo che voglio stare basso perché vi faccio un esempio se dovessi fare il calcolo su quello che pago io di tasse io devo contare che se fatturo 1000 euro il 40% tra tra tutto su 1000 euro io devo contare che puliti da professionista me ne rimangono 600 ok ora mettiamo il caso che facciamo lo stesso ragionamento su questi 30.000 ok vuol dire che noi stiamo fondamentalmente da 30.000 paghiamo le tasse eccetera eccetera come dicono tantissimi artisti americani sarebbe meglio fare il conto del 50% netto ma io voglio essere positivo ok positivo quindi dico il 40% il 40% fa 18.000 euro ok da 30.000 che se lo dividiamo per 12 fa 1500 euro al mese ok ora ragazzi so che magari molti di voi dicono vabbè non è male però io vi vorrei invitare un attimino a riflettere sul fatto che stiamo parlando di oltre di chi supera 10 milioni stiamo parlando di 294 artisti ok quelli riportati qui sopra ok tutti gli altri ma non è tanto questa la questione al di là che potremmo aprire un dibattito e dire ok è giusto che aziende che fanno muovere fatturati giganteschi riconoscano un tasso così basso perché personalmente non lo so voi ma con 1500 euro al mese e credo che il signor Mazza sarà d'accordo con noi un artista che si fa un mazzo così e che riesce a ottenere tra l'altro quei risultati quindi 30 milioni alla fine a conti fatti mal contati e andando proprio per eccesso perché dovrei stare molto più basso si porta a casa 1500 euro al mese ok non so che vita uno possa fare ok con 1500 euro al mese se avete un mutuo una famiglia eccetera eccetera ve lo dico io fate una vita di M ma questo può essere un parere personale ok ora però il discorso qual è ed è il discorso su cui voglio andare io perché quando si parla di opportunità ma quando non si capisce il funzionamento di determinate piattaforme motivo per cui io cerco di educare ok cerchiamo di educare gli artisti a capire determinati funzionamenti per fare delle scelte consapevoli ok che cosa significa significa che personalmente se non si riconosce che aziende come spotify o meglio le major labor la music industry ok quella che viene tanto decantata per questa crescita ha posizioni azionari quindi equity con spotify di questo potete trovare tantissimi articoli ok vi riporto il primo che ho trovato su rolling stone che cosa significa significa che se spotify ha potuto fare quello che ha fatto è perché fondamentalmente queste grandi major label per combattere quello che successe nel 2000 con Napster diedero in licenza fondamentalmente l'utilizzo dei loro cataloghi ed entrarono in diciamo in equity quindi comprarono degli stock azionari di quell'azienda cosa significa per chi non mastica queste cose che se io sono Sony Music e ho il tot per cento di azioni di spotify se spotify cresce io ci sto guadagnando ok se poi l'artista non becca una lira perché nessuno ovviamente riconosce il sistema e conosce il sistema prorata ok cosa di cui ho già parlato mesi fa ok quindi magari vi lascio il video a me che me ne frega tanto io ho una posizione di azionaria in quell'azienda e quindi sto guadagnando ora il discorso qual è è che se voi guardate tutte le principali major label quindi tutte le diciamo i colossi dell'industria musicale internazionale hanno queste posizioni di azionari con i servizi streaming ok su questo argomento e per esempio io già tempo fa vi citavo il caso del parlamento britannico perché questa cosa ragazzi è veramente una roba che a me manda in bestia perché perché se non si conosce come funziona il sistema prorata e quando sento parlare soprattutto da chi dovrebbe tutelare ok o dovrebbe o dovrebbe avere a cuore la tutela ovviamente del lavoro artistico e degli artisti mi viene un po' sangue al cervello che mi bolle perché perché fondamentalmente come funziona spotify se ve lo devo dire in parole povere e becere poi andatevi a vedere andatevi a informare di più sul sistema prorata che questa democratizzazione quindi questa grande apertura di possibilità in realtà avviene con un sistema che non funziona che se io pinco pallo compro un abbonamento e pago 10 euro al mese ma ascolto quell'artista i miei soldi non finiscono in parte a quell'artista cioè cosa vuol dire che all'artista non viene riconosciuto se effettivamente io michele ascolto te e non mister x ok quindi cosa significa che da questi miei 10 euro una parte viene assolutamente presa da ovviamente da spotify per gestire tutto la macchina aziendale il resto ok adesso non ricordo le cifre però una cifra ridicola di questo abbonamento viene messa in un pool prorata cioè cosa significa che io dico ok parte di questo abbonamento lo destinerò agli artisti di cui io piattaforma sto diciamo della musica di cui io piattaforma usufruisco no ma non rispetto a quello che io ascolto rispetto a un sistema dove facciamoli andare un po' dove ci pare cioè cosa significa che ovviamente in tutto questo ci sarà più interesse a fare andare il 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 brano di non so come dire di 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 casal pusterlengo o il brano di rihanna e quindi cosa è successo che per esempio il mercato o meglio il governo britannico all'epoca iniziò a dire perché non iniziate a riconoscere oltre ad aumentare ovviamente questa soglia perché è veramente ridicola ma tutto questo è stato permesso grazie al fatto delle cessioni delle proprietà dei master degli artisti a favore ovviamente delle industrie discografiche che poi hanno potuto fare cedere i loro i loro cataloghi in licenza avere queste posizioni di equità ma quello che dico io è ma eh perché non fare allora un sistema un sistema dove se io sto pagando un abbonamento ma poi io ascolto eh lui lui e lui i miei soldi o meglio una parte dei miei soldi perché ci sta che un'azienda streaming essendo un'azienda avendo dei dipendenti avendo dei costi avendo dei bilanci avendo delle spese dovendo pagare determinate cose dovrà vivere ci mancherebbe altro ma io voglio che fondamentalmente che era questo quello che aveva chiesto il governo britannico che i eh parte di questo abbonamento venga ridistribuito tra chi effettivamente io ascolto in una modalità equa ok questo è una roba che a me mi fa veramente bollire il sangue perché perché io quello che mi chiedo è ma chi sono rivolti questi dati sono rivolti alle major label sono rivolti all'industria all'industria discografica ok o al fruttore o o al musicista l'artista che sta cercando di avere una 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 reale sostenibilità e la cerca su piattaforme che con un sistema prorata quindi totalmente insostenibile totalmente al di fuori di ogni logica eh riconoscono quello che vogliono a chi vogliono loro ok io ragazzi permettetemi sono passati venti venti minuti non non posso entrare nel vivo del discorso perché capite che sono discorsi complessi e io questo lo capisco però parlare di grandi opportunità quando fondamentalmente un artista che fa oltre 10 milioni arriva a 1500 euro al mese ma stiamo scherzando ma siamo veramente ma dove viviamo ok questa è una roba da pazzi questa è una roba che io non accetto personalmente da persona che lavora nel mondo musicale quindi qual è la soluzione in tutto questo che magari la federazione dell'industria musicale italiana come anche la recording industry american association inizino a preoccuparsi di queste cose qua ma ovviamente non lo fanno perché perché giustamente cosa faccio vado contro i miei stessi interessi quando principalmente la music industry è regolamentata e gestita da major label che sono inequiti con le grandi società di streaming ci siete avete fatto il match ok quindi ragazzi che cosa dirvi io vi do un consiglio personalmente queste cose dovreste studiarle ok anche se io posso capire che l'obiezione che mi può essere fatta rispetto a quanto io ho detto ora che magari sono stato impreciso magari non sono stato ok perfetto ma il ragionamento è questo qui ci sono un sacco di testimonianze molto più autorevoli di me come quelle di Joe Rogan con i suoi podcast per esempio io nominavo già Billy Corgan degli Smashing Pumpkins ok abbiamo avuto Taylor Swift che ha fatto delle grandissime battaglie per le proprie proprietà dei master rispetto a questo ci sono artisti negli Stati Uniti che hanno iniziato a capire che l'intermediario discografico è una porcheria che ovviamente può essere bypassata tranquillamente perché oggi il sistema digitale ci permette di avere un rapporto uno a uno con quelli che sono i nostri fan per cui quello che voglio dire io a tutte le persone là fuori a chi ha a cuore un discorso di sostenibilità dovete queste cose dovete conoscere perché perché se poi voi vi lamentate che la situazione non funziona che la musica in Italia non si riesce a vivere di musica gli artisti non vengono riconosciuti tutte queste lagnie e poi però siete i primi a mettere la musica su Spotify e mettere la musica sugli streaming a pagare promozioni magari e fare promozioni al pagamento per cercare di aumentare la visibilità su Spotify perché è così almeno perché se non sono su Spotify mi sto giocando queste cose e poi voi non conoscete il funzionamento di questi meccanismi state giocando una partita bendati ok quindi quello che dico io è l'appello che io faccio ai grandi i grandi CEO di queste associazioni di queste grandi industrie iniziate a preoccuparvi degli artisti che tengono in piedi un indotto che non è relativo solamente agli artisti che riescono a fare 10 milioni perché l'artista che fa 10 milioni posso capire che si riesca in qualche modo a barcamenare anche se ho situazioni e conoscenze dirette per cui non è che tanti artisti anche quelli che fanno grandi numeri riescano a fare chissà che vita o chissà quali guadagni come al contrario di quello che si potrebbe pensare anche qui bisognerebbe aprire un'altra apparenza ma lasciamo perdere non voglio andare oltre a quello che è questo discorso ma iniziamo a preoccuparci di questo iniziamo a fare in modo che queste piattaforme riconoscano realmente quello che è dovuto a questi artisti se proprio dobbiamo stare su queste piattaforme se proprio dobbiamo vedere questa chiarità se no consiglio che vi do a ragazzi e magari alla fine di questo video io vi lascerò il un un piccolo spezzone di una bellissima intervista a Steve Jordan fatta da Don Famulario dove si parla proprio di questo e così chiudo sicuramente con una parere più otterrevole del mio cercate di crearvi il vostro ecosistema cercate di crearvi la vostra bottega cercate di crearvi il vostro business che sia fuori da queste logiche perché ripeto già questo negli Stati Uniti tantissimi artisti hanno fatto vedere che è assolutamente possibile perché se la mettiamo numericamente se per avere 18 mila euro puliti ok da 10 fischi a milioni in più di streaming ok io devo fare 10 milioni di stream ok io vi dico quanto dovreste vendere a mille utenti ok per raggiungere la stessa soglia ok fatevi voi i conti e vi accorgerete che sono rate che sono assolutamente imparagonabili perché perché se io ho 10 persone che comprano il mio prodotto a 50 ho fatto 500 ok adesso ve la sto banalizzando quanto dovreste fare per fare 500 su determinate piattaforme fatevele queste domande perché se no fate la fine dei polli ok fate la fine dei polli che si mettono sopra e foraggiano un qualche cosa che tutto ha meno che una visione economica sostenibile per gli artisti vi ringrazio per la visione vi lascio spero se ritroverò il video alle parole di Steve Jordan un saluto a tutti with the young generation and all these names as they research these names to understand more about it in closing what would you say to generations of young inspired and aspiring musicians what would you say to them the overall understanding of the music industry here's the thing about the music industry you don't need the music industry to make music but the music industry needs you to make music or else there's no industry interesting so when people get all twisted they're trying to get on a chart somebody's telling them you gotta do this you gotta do that wait a minute hold on if you if push comes to shove if you go on the street if you know how to play you can go on the street take a hat put it down and you can make a living right I mean if that's absolutely but the music industry without any music you can't wait where how they're gonna make revenue there's no music right well said well said the other thing is it's better to be good than to try to be famous try to get good try to be good at what you're doing don't try to be famous right that's what all these shows have done the shows have from American Idol to The Voice of all of these shows what they've done is they've undermined the creative process in America in particular yeah I think you know some of these shows were actually created outside of America right but because we're in such a reality show mentality cluster blank right now where we have people like you know that's why you're gonna have Donald Trump right and all this stuff going on right on we've lost our way all right so people want to be famous right but if you're really good the chances are you will end up being famous at some point right and then you'll have something to show for it right it won't be you won't be a reality show star whatever or have something hot for like six months to a year and then never be heard from again you'll have a career you will have a career with longevity with backbone with some root right and it will bring you joy in your life you will and you'll feel good about yourself because you're actually good at something right boy that's very very powerful you know and that's the thing that's it